Un turno elettorale che recepisce le innovazioni della legge del Rio sulle disposizioni per le città metropolitane, province, unioni dei comuni e fusioni. Alla lista che appoggia il sindaco eletto andranno due terzi dei seggi disponibili, mentre i restanti saranno distribuiti in proporzione tra le altre. Sostanziali le modifiche apportate, c'è la sorpresa, ma solo in alcuni comuni dell'alternanza di genere. Nelle liste nei comuni con popolazione tra 5 e 15 mila abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi dei candidati, caso che riguarda Maratea, Belvedere e Diamante, dove c'è la facoltà di esprimere la doppia preferenza. Si può votare un uomo e una donna, solo se della stessa lista, e in caso di doppia preferenza è obbligatoria l'alternanza di genere. Se si votano due candidati di sesso maschile e due candidate di sesso femminile, viene ritenuta valida solo la prima preferenza. Meno vincoli per i comuni con fino a 5 mila abitanti, dove vale il principio secondo cui nelle liste dei candidati deve essere assicurata la rappresentanza dei sessi, ovvero è sufficiente una sola candidata di sesso femminile. Norme specifiche anche per la composizione dell'assise civica. Nei comuni con popolazione fino a 3 mila abitanti, Santa Domenica Talao, Buon Vicino Orso Marso, si esprimerà una sola preferenza e il consiglio sarà composto, oltre che dal sindaco, da 10 consiglieri. Nei comuni con più di 3 mila abitanti e fino a 10 mila, il consiglio sarà composto da 12 consiglieri e il sindaco. È il caso di Diamante, Belvedere e Maratea. In ogni caso la presenza delle donne è risultata molto nutrita, al di là dell'imposizione legislativa. Diamante Futura, ad esempio, oltre al candidato a sindaco, Claudia Perrone, ha in lista altre sette donne. Anche a Verbicaro Gente Nuova per Nuovi Orizzonti ha scelto una donna per la candidatura a sindaco e Mirella Ruggero, ex vice sindaco della Giunta Spingola. Sei donne anche nella lista per Maratea del sindaco uscente Mario Di Trani.